Un miracolo? Ma è meraviglioso Carlo? Ma Giovanni, ma tu parli! Ogni giorno vai nei campi a spezzarsi la schiena dissodando le zolle per poi portare a casa lo stretto necessario. È appena suonata l'Ave Maria, la Madonna in cielo, è la prima a dirvi che è ora di tornare a casa. E hai visto la Madonna? Il mio padre è un pezzo di pane, solitamente fa una brutta faccia quando entriamo a buttargli a casa. Ma Giorgino, tu parli! La Madonna mi è apparsa, mi ha detto che vuole riportare pace a questa terra. Mi hanno detto che è venuto anche il dottore a visitare Giovanni. Fosse capitato in casa nostra un miracolo del genere. Chi crederà alle parole di tre bambini? Questo sente e parla. Mi state prendendo in giro? La Madonna! Pregate con coraggio, Dio vi aiuterà. Zio carissimo, guardatela! Pregate con coraggio, Dio vi aiuterà. Pregate t הבעare. Grazie a tutti.